Grazie al cielo è venuta la pioggia e è servita a ripulire un po' le strade dall'immondizia che si era ammonticchiata. Lavoro tutta la notte adesso, dalle 6 del pomeriggio alle 6 del mattino, certe volte anche la domenica. È una fatica ma almeno mi tiene sempre occupato. Guadagno 300-350 alla settimana.